E' stato ritrovato questa mattina intorno alle 8 nella zona della Darsena Nuova del Porto il corpo senza vita della sedicenne congolese annegato in mare mentre faceva il bagno nelle acque della playa insieme alla sorella di 18 anni annegata insieme a lui. A ritrovare il corpo della giovanissima un pescatore sportivo che ha subito avvertito la capitaneria di Porto sull'accaduto indaga la sezione volanti della Polizia di Stato.